una ragazza in auto sta percorrendo una di quelle strade americane lunghe e dritte nel deserto quando l'auto improvvisamente si ferma e non ne vuole sapere di ripartire il cellulare non prende e non passa nessuno ad un certo punto vede da lontano un uomo cavallo che galoppa verso di lei quando abbastanza vicino vede che è un indiano lei gli dice che è in difficoltà e lui si propone di portarla al più vicino distributore o ristorante lei accetta e sale dietro all'indiano che riparte subito al galoppo il viaggio prosegue con un po di difficoltà per la ragazza visto che non era mai salita su un cavallo e poi ogni tanto l'indiano fa il suo urlo da indiano così dopo tanta strada e tanti urli arrivano ad un ristorante l'indiano fa scendere la ragazza la ringrazio signor indiano è stato molto gentile è stato tutto mio il piacere rispondere indiano la ragazza pensa che gentile l'indiano riprende la sua corsa il ristoratore che li ha visti arrivare le chiede cosa è successo la ragazza spiega che si è fermata la macchina e che l'indiano l'ha portata fino a lì ma come mai tutti quegli urli da parte dell'indiano chiede il ristoratore ma non so dice la ragazza abbiamo fatto tanta strada e non è stato facile per me che non ero mai andata a cavallo prima per fortuna mi tenevo forte al maniglione della sella signorina quello era un indiano gli indiani cavalcano senza scella